Come erano in principio, l' disease che avremo, essere fatti nel seguito anno. Genta il segno e la tua famiglia, e ti salverà. Lettura breve. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Chi è come te, Dio dell'universo, sia forte, Signore, finita, alla parola. O Dio, grande e misericordioso, che ci dobbiamo rispondere alla vita quotidiana, sostieni la nostra devolenza e aiutaci a portare a te in un'altra domanda di fatti. Per Cristo, il nostro Signore, è il nostro. Preghiamo il Signore che benedica la nostra mensa e il pensico della nostra giornata. Dio, amante della vita, che vengono i cieli del cielo e i vestigini del campo, ti benediciamo per tutte le verdure e per il cielo che stiamo per prendere. Preghiamo il Signore che benedica la nostra mensa e il nostro. Preghiamo il Signore che benedica la nostra mensa e il nostro. Direi che benedicino della nostra mensa e il nostro. Ragazzi che mettiamo prima? Quell'a 125 e quello a 400. Che dite? andiamo con la 125 per prima il nostro corso gratuito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.